Ora siamo allo stand MV con Matteo Maresi. Matteo, ci racconti brevemente le novità del marchio MV? La principale novità è questa moto qua che si chiama Brutale 800RR, esisteva già una Brutale 800RR ma era una vecchia piattaforma sulla quale abbiamo ricostruito un progetto totalmente nuovo, un progetto rinnovato già l'anno scorso con la nuova The All New Brutale 800 che è una moto ridisegnata rispetto alla sua sorella, alla sua progenitrice, nelle forme, nel design e nel motore che è stato il nostro primo motore Euro 4 e che quest'anno portiamo nella versione upgrade, quindi con molti più cavalli, con molta più potenza. I cavalli sono 140, sono rimasti gli stessi identici della sua progenitrice, la vecchia Brutale 800RR. La novità è che siamo su una piattaforma Euro 4, una piattaforma qualitativamente fantastica che spesso tende a limitare la prestazione, tende a rendere un po' meno entusiasmante quel momento adrenalinico per chi poi lo vuole o lo cerca veramente. Non è successo, non sta succedendo con le nostre nuove moto, non è successo con questa moto qua. Quindi lei è ambasciatrice anche di una nuova piattaforma che riguarda un po' tutta la gamma 2017. I nostri motori, la nostra piattaforma Euro 4 vuol dire un redesign del motore, della testa del motore in particolare, che è la parte un po' più delicata, quella che comunque crea sempre più problematiche per tutte le case produttrici. sulla quale siamo intervenuti tanto per, prima di tutto, diminuire al massimo i suoni, i suoni quelli negativi, il suono positivo, il noise che ci piace, che non è noise ma è sound, è quello dello scarico. Tutto il resto non ci piace. La normativa Euro 4 limita moltissimo le emissioni, quindi il rumore che non è generato ovviamente solo dello scarico, ma dall'insieme di tutta quanto la moto. e abbiamo ottenuto risultati strepitosi, si parla del 50% in meno del livello consentito. Quindi è una moto che dal punto di vista del rumore è inesistente, dal punto di vista del sound invece darà tantissime soddisfazioni. Stiamo parlando di 140 cavalli, una coppia la cui strategia è stata totalmente ridisegnata e quindi da una parte garantisce superadrenalina e dall'altra invece una fluidità, un'armonia nella guida. Questo grazie anche alla ciclistica, che comunque è una ciclistica già rinnovata da un anno. La ciclistica molto più morbida, se vogliamo usare questo termine, ma che serve poi a creare una dimensione maggiore a livello dell'esperienza di guida. Quindi meno secca rispetto al passato, come risposta? Decisamente, molto meno avantreno, molto più comfort. Un'altra cosa che abbiamo cambiato, ma questo vale per questa nuova moto ma anche per tutte le altre, è quello su cui siamo stati pionieri, cioè Ride by Wire. Abbiamo aggiornato la strategia anche in quel senso, abbiamo risolto alcune problematiche che poi sono venute fuori a livello migliorativo, nel senso che siamo voluti andare assolutamente oltre e se già prima la guida era super coinvolgente, ora lo è ancora di più, nel senso che il contatto tra rider e moto è diretto, non ci sono diaframmi, il gas viene via insieme al movimento della mano e con la coppia crea un'esperienza di guida che è un po' quello su cui stiamo puntando di più. Noi la chiamiamo aumentata, una realtà aumentata. E poi c'è la turismo veloce, l'RC. C'è la turismo veloce RC, la turismo veloce RC, noi la vediamo qui vicino, rappresenta un'evoluzione del brand all'interno del brand, ovvero la famiglia RC che è quella delle repliche del reparto corse che riguardava la F4 o la F3, noi corriamo in super sport con la F3 e in super bike con la F4 e abbiamo prodotto per due anni le repliche, quindi con la livrea e contenuti anche tecnici, il kit racing eccetera, per queste due moto. Ma quest'anno l'abbiamo voluto allargare, abbiamo voluto estendere la livrea, le peculiarità, alcune caratteristiche tecniche, dettagli esclusivi, arricchimenti anche ad altre due moto che non vengono dai circuiti, che non vengono solitamente usate sui circuiti. Tra cui la turismo veloce, perché? Prima di tutto perché il DNA della casa è racing, veniamo da lì, infatti lo diciamo, siamo orgogliosi di dirlo. E poi perché la turismo veloce è una tourer, ma è una tourer assolutamente atipica, perché nasce sportiva ma per fare lunghi viaggi. È una cosa che non esisteva prima, è una moto che in chi la prova suscita sensazioni pazzesche, è una moto che bisogna testare per capire di che cosa si tratta ed è una moto che con la livrea, con la livrea racing ha ancora di più e fa emergere ancora di più la natura sportiva di quel mostro atipico. Infatti se si tolgono le borse in quella moto lì, di fatto si ha la sensazione, soprattutto per chi guarda, per chi all'improvviso vede passare uno che spreccia con quella turismo veloce lì, dà l'impressione di essere una super sportiva. Quindi è un po' un blef, ma è un blef nato da dei valori assolutamente concreti. Quella moto lì è una tourer, ma che se portata su un circuito può far divertire in un modo assolutamente inaspettato. Quindi doveva essere lei la prima, la prediletta nel momento in cui noi volevamo allargare questa gamma. E poi l'altra nuova new entry, la new entry nella famiglia RC è la Dragster, che nel suo assetto più potente è la Dragster RR, che monta questo stesso tipo di motore, anche se è ancora Euro 3 in quel caso, che diventa anche lei RC. Ci piacciono tantissimo. Una cosa che piace tanto è anche quella di vedere un brand italiano che mette il tricolore sulle moto. Non è una cosa scontata e se ci pensate come lo mettiamo noi, effettivamente non lo mette nessuno. E poi tutto questo anche perché veniamo da un'esperienza con il nostro reparto course, una stagione 2016 super entusiasmante. Sono successe delle cose pazzesche e questo ha cambiato anche il nostro modo di pensare all'interno dell'azienda. È un momento particolare per noi e quindi abbiamo trasformato quell'esperienza lì nel nostro punto di forza. Un po' marketing ma tantissimo contenuto. Benissimo. Da casa MV è tutto. Ci vediamo dopo.